Musica Benvenuti al TG10, la pagina politica in apertura del telegiornale, ci occupiamo in particolar modo delle critiche che giungono al sindaco di Gela, Domenico Messinese, da area civica Gelesi in movimento. Il portavoce Filippo Guzzardi chiede al capo della giunta municipale di elaborare un progetto per la città o ponga fine a questa anonima esperienza che per la situazione drammatica che stiamo vivendo è persino durata fin troppo. La bancata per l'azione del rendiconto consuntivo 2015 o del bilancio di previsione 2016 potrebbe già far saltare il banco senza aspettare la mozione di sfiducia. Si elabori un progetto per la città o si ponga fine a questa anonima esperienza che per la situazione drammatica che stiamo vivendo è persino durata fin troppo. Lo dice in una nota il portavoce di area civica Gelesi in movimento Filippo Guzzardi. Chi pensa di poter continuare a bivaccare nelle istituzioni cittadine almeno fino all'estate del prossimo anno, allorché passati i primi due anni di mandato si potrà votare l'eventuale mozione di sfiducia al sindaco senza che l'opinione pubblica ne abbia piena contezza, si sbaglia di grosso, dice Guzzardi. La farsa che è in atto figlia di un voto schizofrenico così come maturato alle elezioni comunali del 2015, per di più aggravato dalla circostanza che ha visto il primo cittadino espulso dal Movimento 5 Stelle dopo averlo candidato sei mesi prima, non può più andare avanti. Basta. La bocciatura quasi totale dei gruppi consigliari in merito alla relazione presentata nel Consiglio Comunale da Messinese né la fedele testimonianza, a meno di voler negare anche l'evidenza. Dall'entrata in vigore della legge regionale 17-2016, anche nella nostra isola, la cessazione della carica di sindaco comporterà automaticamente la cessazione della Giunta e del Consiglio Comunale. Viceversa, la cessazione del Consiglio Comunale comporterà automaticamente la cessazione del sindaco e della Giunta, con la parola che verrà data di nuovo ai cittadini nelle cabine elettorali, dopo un breve e necessario periodo di gestione straordinaria commissariale. E questo, dice Guzzardi, non per forza a partire dal prossimo rinnovo degli organi comunali. L'articolo 5,2 bis della legge regionale 17-2016, rimarca ancora Guzzardi, stabilisce che la cessazione del Consiglio Comunale per qualsiasi altra causa rispetto a quella delle dimissioni contestuali, comporta, a partire da subito, cioè dall'entrata in vigore della legge, la decadenza del sindaco e della sua Giunta. Una precisa disposizione che trova applicazione, quindi immediata. E quali possono essere altre cause di scioglimento del Consiglio Comunale, a parte le oramai tristemente note infiltrazioni di stampo mafioso? Sicuramente l'iradambienza del civico consesso è in ordine all'approvazione degli strumenti finanziari cardine di un comune, ossia il bilancio di previsione ed il rendiconto consuntivo. Giusto per rendere l'idea a chiude Guzzardi, basti pensare che per non approvare un rendiconto consuntivo o un bilancio di previsione è sufficiente anche una maggioranza semplice, nettamente inferiore alla maggioranza qualificata, richiesta ad esempio per la mozione di sfiducia. Cambiamo argomento, viola gli arresti domiciliari a cui era sottoposto e va a cena con amici in un ristorante di contrada Roccazelle a Gela. Sorpreso dai carabinieri è stato arrestato. Protagonista della vicenda è il gelese Orazio Tallarita, 33 anni, deve rispondere di evasione. E carabinieri e polizia hanno avviato indagini a seguito degli incendi che si sono registrati la notte di sabato in città. In via Martoglio, in contrada Giardinelli, le fiamme hanno interessato una Fiat Bravo, appartenente ad un uomo di 40 anni. In via Ettore Romagnoli il fuoco ha divorato una Smart di proprietà di una 34enne e in via Butera una Lancia Ipson parcheggiata davanti ad un'officina meccanica. L'automobile è di proprietà di un ragazzo di 25 anni. Presenti in città dal 1439, i frati agostiniani lasciano Gela, così come per annunciato nel giugno scorso, dal Consiglio Provinciale degli Agostiniani Eremitani. Sono stati inutili gli interventi della cura vescovile e della popolazione gelese al fine di fare retrocedere i superiori agostiniani costretti a prendere questa decisione per la carenza delle vocazioni. Ieri sera, durante la celebrazione eucaristica preseduta dal Vescovo di Piazza Merina, Monsignor Rosario Gisana, sono stati salutati gli ultimi due religiosi, padre Francesco Calleia e padre Giuseppe Ribaldone, che da oggi raggiungeranno le loro nuove destinazioni, Cascia e Roma. Il Vescovo ha ringraziato l'Ordine Costiniano per il grande lavoro svolto in questi anni, per il servizio generoso nelle confessioni e nella guida spirituale e nella continuità delle tradizioni. Padre Luciano De Michieri, provinciale dell'Ordine, che ha visitato personalmente la comunità gelese lo scorso luglio e ieri ha fatto arrivare il suo messaggio dall'Africa, ha deciso con il suo consiglio di stipulare per il convento una convenzione di vent'anni con la diocesi di Piazza Merina. Assieme al comodato d'uso gratuito del convento, firmato dal Vescovo e dal legale rappresentante della provincia costiniana, sono stati ceduti i beni inventariati dalla chiesa conventuale, intenzione di creare nel plesso della chiesa del convento un centro di spiritualità e di carità che continui il carisma costiniano anche attraverso delle conferenze mensili tenuti dallo stesso Vescovo e delle catechesi sulla spiritualità della misericordia come segno dell'anno giubilare, oramai quasi a conclusione. Durante la celebrazione di ieri, il Vescovo ha annunciato di aver nominato come rettore della chiesa di Sant'Agostino e direttore del centro diocesano di spiritualità il sacerdote Pasqualino di Dio. Dollino, che porta avanti la piccola casa della misericordia che si trova nella stessa piazza di Sant'Agostino, continuerà il servizio di segretariato vescovile ma lascerà la parrocchia del Carmine per seguire da vicino la comunità rettoriale di Sant'Agostino. Monsignor Gisana ha rassicurato ai fedeli gioresi che tutte le attività finora svolte dai padri agostiniani continueranno dalle due feste tradizionali di San Giuseppe e quelle di Santa Rita al catechismo che inizierà l'8 ottobre. Il convento sarà adoperato dalla piccola casa della misericordia per ampliare le sue attività a servizio dei poveri del territorio. Le stanze saranno utilizzate per l'ospitalità di persone disagiate gioresi e per esperienze di spiritualità e carità di giovani e famiglie che ne faranno richiesta. I locali del convento di Sant'Agostino destinati al dormitorio saranno arredati in parte dai mobili già donati dalla Lions Club del Golfo, il Kivanis, l'Innerwill ed il Sor Optimist di Gela. Il centro di spiritualità e di carità sarà inaugurato il prossimo 13 novembre a conclusione del giubileo della misericordia. Sono in pagamento al comune di Gela i contributi relativi all'acquisto dei libri di testo riservati agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2013-2014. Lo ha reso noto l'assessore comunale ai servizi sociali e all'istruzione Licia Abela. I beneficiari degli eventi dritto per riscuotere la somma dovranno recarsi agli sportelli della banca Unicredit muniti di documento di riconoscimento valido e codice fiscale. Mercoledì 12 ottobre è l'ultimo giorno utile per poter presentare all'ufficio protocollo generale del comune di Gela l'istanza per ottenere l'abbonamento o il contributo per il trasporto scolastico. Nel primo caso, la domanda per accedere al servizio gratuito va presentata dalle famiglie degli alunni delle scuole primarie e secondarie residenti a Femina Morta, Roccazelle e Borgo Manfria. Termini aperti anche per i nuclei familiari degli studenti che si recano in un comune diverso da Gela per frequentare le scuole secondarie di secondo grado. Guardarsi le spalle, sentirsi braccati come la preda di un cacciatore sempre in agguato. Questa è la sensazione che provano le donne vittime di violenza e stalking. Un fenomeno che, assunto dimensioni tali, da dove essere considerato a tutti gli effetti una vera e propria piaga sociale. Tre i casi che si sono registrati a poche ore di distanza tra lunedì e martedì in provincia di Caltanissetta che hanno portato all'arresto di un 49enne per stalking ai danni di una donna che non ha ceduta alle sue avanze e alla richiesta di cure mediche di altre due, una del capoluogo e l'altra di Mussomeli, entrambe picchiate dai mariti. Rompere il muro del silenzio a volte legata alla vergogna e ai pregiudizi e denunciare l'invito della polizia. Lo stalking è stato riconosciuto già dall'anno 2009. Il legislatore è intervenuto introducendo questa nuova fattispecie di reato che consente tanto agli uffici amministrativi in particolar modo all'ufficio misure di prevenzione della questura tanto agli uffici giudiziali di procedere soltanto qualora la vittima del reato segnali o denunce. Le strade che si possono seguire sono alternative ma ne sono due. Da un lato la possibilità di richiedere segnalandolo opportunamente e ci si auguri in maniera particolarmente dettagliata un ammonimento oppure denunciare il reato qualora le fattispecie di reato stesse si configurino come procedo in birro d'ufficio. È necessario che la vittima quando presenta quindi l'istanza di ammonimento la denuncia deve indicare quali sono stati questi fatti sia dal punto di vista temporale che dal punto di vista logistico quindi dove si trovava con chi si trovava in modo tale che vi siano dei testimoni che possano diciamo attestare quello che è accaduto in quei momenti dei certificati medici che attestano anche delle lesioni subite lo stato di ansia e di paura in cui versa la vittima perché ricordiamoci che l'attivo persecutore è un reato che comunque induce la vittima a modificare le abitudini di vita e che diciamo la porta ad avere un grave perdurante e quindi stato di ansia e di paura quindi insieme a tutta questa documentazione necessaria quando verrà valutata la fondatezza dell'istanza verrà ammonito il soggetto da ricordare che se si tratta di uno stalker già ammonito la pena sarà aggravata è necessaria inoltre una stabile rete c'è ed è necessaria quindi questa stabile rete di collegamento che abbiamo con i centri e le associazioni presenti sul territorio la vittima appunto come alle mie spalle si legge non è sola ed è necessario appunto che esca dal buio e si renda conto che è una vittima cosa che molte volte non accade la riserva naturale viviere di Gela in collaborazione con l'IPU di Niscemi Caltanissetta Naro e Serra di Falco promuove per sabato 1 e domenica 2 ottobre l'evento dell'Eurobeard Watch la grande fotografia europea della migrazione dei uccelli selvatici nel momento clou del loro ritorno verso le aree di svernamento del Mediterraneo e africane a cui aderiscono 37 paesi europei l'iniziativa coinvolgerà la riserva naturale Lago Soprano di Serra di Falco il Lago San Giovanni di Naro il Lago di Sueri di Mazzarino e nella giornata del 2 ottobre la riserva naturale viviere di Gela l'Eurobeard Watch è organizzato da Beard Life International e in Italia dalla LIPU in molteplici aree naturalistiche con forte presenza di uccelli selvatici come laghi zone umide coste e foreste zone di protezione speciale e aree importanti per gli uccelli in questo periodo potrebbero essere avvistate anche la cicogna nera e l'aquila anatraia minore per partecipare all'iniziativa c'è un numero telefonico 345 66 12743 lo ripetiamo 345 66 12743 l'associazione nazionale polizia di stato sezione di Gela organizza per giovedì 29 settembre una celebrazione eucaristica in occasione della festa di San Michele Arcangelo patrono della polizia appuntamento previsto alle 19 nella chiesa San Sebastiano Martire la celebrazione sarà preseduta dal parroco Don Filippo Salerno alla presenza tra gli altri del personale della polizia di stato autorità civili e militari e ora occupiamoci della presentazione della nuova associazione gelese Io non mollo creare progetti per permettere l'indipendenza di ciascun disabile è lo scopo dell'associazione gelese Io non mollo nata nei mesi scorsi e presentata lo scorso fine settimana durante un incontro che si è svolto nei locali del Palo Livatino il presidente è Gaetano Passanisi molto spesso le associazioni non vanno altro che mollare la situazione invece noi non vogliamo mollarla dobbiamo andare sempre avanti fino a quando ci riusciamo nelle nostre capacità chiaramente In questo momento l'associazione quanti tesserati conta? Attualmente non abbiamo tanti tesserati abbiamo pochi tesserati però buoni tutti che vogliono mollare la situazione su questo non ci sono l'obbi Nel direttivo dell'associazione fanno parte Costantino Rapotez Patrizia Comandatore e Chetti Damante questa associazione nasce per garantire e promuovere affinché tutti gli enti istituzionali e non solo riescano a ottemperare i diritti e i doveri dei diversamente abili quindi non è soltanto un'associazione di diversamente abili ma anche di abili che è di persone comuni che aiutano i diversamente abili a ottenere ciò che è di loro diritto Ma Gela questo è possibile? Gela è l'Italia l'Italia in Italia è possibile non tutto è possibile nel senso che non è normatizzato ancora a dovere infatti in questo senso la conferenza stampa è voluta anche per questo perché purtroppo l'Italia nonostante ha delle norme e si vanta di essere uno stato sociale purtroppo non garantisce i diritti di questi soggetti Sebastiano Granieri social manager della nuova associazione L'osservatorio per la legge 104 sulla disabilità che tutti conoscete sta individuando otto linee e guida per rendere possibile un cambiamento interessante in questo senso la ricerca e il modo di organizzarsi nei territori può essere ricco di innovazioni Appuntamento con la trasmissione 10.10 questa sera alle 21 nostro ospite sarà il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela Fernando Asaro le repliche lo ricordiamo sono previste alla mezzanotte e domenica prossima alle 18 Fai la cosa giusta differenzi ai rifiuti mantieni il decoro urbano della nostra città oggi lunedì dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione il secco residuale in un sacco trasparente conferire piccoli oggetti di uso domestico nastro adesivo penne carta carbone oleata plastificata e da forno posate in plastica sottovasi bacinelli materiali in plastica non di imballaggio giocattoli elettrici e nonna cassette audio e video floppy disk cd tvd spugne sintetiche e stracci sporti cosmetici calze in nylon lumini votivi pannolini assorbenti igienici sacchetti aspirapolveri mozzicone di sigaretta è assolutamente vietato l'impiego di sacchi neri e o incolorazioni che non consentono il facile riconoscimento di quanto conferito per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto siamo ritornati seconda parte del telegiornale è stato pubblicato sul sito internet dell'istituto comprensivo Giovanni Verga di Gela all'indirizzo vergagela.gov.it il bando di reclutamento di esperto esterno in lingua inglese progetto infanzia con l'inglese per l'anno scolastico 2016-17 modalità di accesso essere docente madrelingua o in subordine esperto con comprovata esperienza in percorsi scolastici infanzia in lingua inglese i termini di presentazione sono previsti entro le ore 12 del 4 ottobre sono ancora disponibili pochi posti per le iscrizioni all'ultimo corso sub ex-lec dell'anno 2016 valido per il conseguimento della licenza alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande il corso autorizzato dall'assessorato regionale delle attività produttive sarà avviato il prossimo 10 ottobre e si svolgerà presso la sede della confcommercio Ascom Gela in via Cicerone 104 gli interessanti dovranno effettuare l'iscrizione presso la segreteria della confcommercio Ascom dalla lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 e ora apriamo la pagina dello sport calcio pareggio 0-0 per il Gela sul neutro di Leonforte contro il Gladiator per i biancazzurri di Infantino non è arrivato però il terzo successo di fila nonostante in più occasioni i Nessi e i compagni hanno avuto l'occasione per conquistare i tre punti con ISE non si fa mai la storia e questo lo sappiamo tutti in molti però soprattutto Sponda Gela tifosi ai detti lavori giocatori ed altro alla fine della gara pareggiata 0-0 ieri contro i casertani del Gladiator avranno pensato a quanto sarebbe stata diversa una gara giocata sul sintetico di casa e non sul neutro di Leonforte per giunta ieri appesantito dalla pioggia abbondante caduta nelle ore precedenti una situazione di certo uguale per tutti esiderà ma sicuramente non per un Gela che a causa dei lavori di manutenzione del Presti ha dovuto praticamente giocare la sua seconda trasferta di fila con tutti i problemi del caso alla fine però occorre guardare avanti alla squadra dal tecnico Pietro Infantino si gode comunque un buon punto ottenuto contro una delle squadre accreditate alla vittoria finale del torneo di quarta serie Biancazzurri che ci hanno provato in tutti i modi a sfondare la retroguardia campana al nuovo comunale della cittadina annese però alla fine è arrivato solo un pari ad occhiali che accontenta tutto sommato tutti anche se quel sé a cui abbiamo fatto riferimento all'inizio ronza sempre di più nelle orecchie la cronaca il tecnico gelese si fida gli stessi undici delle ultime due gare con Alma ancora in tribuna ma quasi sulla via del rientro nel gladiatore assenti oltre allo squalificato tedesco anche altri quattro giocatori tutti infortunati campani che venivano dalla brutta batossa subita in casa da l'Igea Virtus e che non volevano fare un'altra brutta figura si gioca come dicevamo su un campo pesante per via della pioggia e davanti a circa 300 tifosi che hanno sfidato nebbia, pioggia e tornanti che da gelà portano al centro annese si comincia con un colpo di testa di Del Sorbo dopo quattro minuti con il Gela che inizia timoroso ma poi prende campo Bruno e Chiedichimo appoggiano Montalbano e Coso vanno sugli esterni mentre Nassi viene lasciato al proprio destino in mezzo all'area di rigore Bonafini prende in mano la squadra ma al ventiquattresimo Criniti ex di turno sfiora il gol con un piatto sinistro da dimenticare sul contropiede del Gela va vicinissimo alla rete Montalbano serve un cross al bacio per Cosovan che invece di piazzare di testa la sfera decide di provare una girata spettacolare sbagliata al trentatresimo ancora Montalbano è bravo ad incurearsi in area di rigore ma nessuno è pronto ad approfittarne nella ripresa al dodicesimo ci prova Schisciano ma la conclusione è parata da Zeoli al sedicesimo Nassi prova la via del gol con un sinistro che impegna Zeoli al ventottesimo Infantino tira fuori Nassi per Bonanno l'unico brivido arriva al trentacinquesimo con De Falco che tira sull'esterno della rete la gara termina così a reti inviolate ma senza musidunghi da entrambe le parti due squadre che si rispettavano e che hanno messo in campo tanto agonismo senza risparmiarsi Biancazzurri che a questo punto dovranno preparare quella che potremmo definire la terza trasferta della stagione di fila questa volta in quella di Gragnano i lavori sul manto erboso dello stadio gelese sembrano quasi terminati e con esso anche il calvario della società con il Delfino nel vessillo oggi intanto potrebbe esserci qualche novità di mercato soprattutto per quanto riguarda il tanto atteso difensore centrale e a fine partita Flavio Centamore ha raccolto la testimonianza dei due allenatori è mancato solamente il gol io credo che anche Maurizio Nassi ha avuto due occasioni importanti il portiere ha fatto delle grandi parate credo che tutte e due le squadre a secondo tempo hanno pagato questo campo molto pesante molto allentato però devo dire che io sono orgoglioso di allenare questi ragazzi fino al 95esimo hanno attaccato con grande caparbietà con grande voglia di vincere la gara avevamo di fronte una squadra che sicuramente sarà protagonista di questo campionato noi abbiamo fatto la nostra partita cresciamo partita dopo partita io sono molto molto contento dei ragazzi e oggi abbiamo messo un altro mattone per costruire questa nostra grossissima base per il futuro quando vedo che il Gladiator viene in un campo neutro contro il Gela e fai 5 dietro e perde tempo devo dare atto ai miei ragazzi che significa che questi ragazzi stanno dimostrando di avere una forza io sono contento di questo credo Maurizio ha fatto una grandissima partita è un ragazzo generoso un ragazzo che ci sta dando grande profondità ha avuto due bellissime occasioni il portiere gli ha fatto una grande parata è un piacere allenarlo perché è sempre il primo a essere davanti al gruppo è stata una sostituzione tattica ho visto che la difesa avversaria soffriva un po' la velocità era sulle gambe un campo allentato ho messo tre veloci per sfruttare la rapidità di Buonanno e di Montalbano ma non è una sostituzione penalizzante è una sostituzione tattica non è che un giocatore viene sostituito è perché non ha fatto bene anzi io sono felice e contento della prestazione di Maurizio tanti assenze nella sua squadra una partita con comunque un pareggio meritato è stata una bella partita tra due squadre che non ci stavano a perdere in un campo che ha reso difficoltoso giocare soprattutto a pallone niente ho detto bene un pareggio meritatissimo vorrevo rimarcare la grande prestazione della mia squadra al di là delle assenze a me non piace parlare delle assenze vi dico la verità sono sincero alla fine abbiamo questa trasferta è stata una traversata nel vero senso della parola siamo partiti e verso l'una poi si è rotto un pullman siamo stati 4-5 ore fermi insomma dovevamo fare rifinitura e non l'abbiamo fatta questi ragazzi oggi mi sono piaciuti perché sono stati più forti delle avversità climatiche più forti degli infortunati più forti di ognuno di meglio non potevo chiedere finendo poi con qualche andare in più a onore del vero non piace a me attendere sono sincero perché però a volte si deve fare di necessità per tu insomma alla fine mancando è ovvio qualche giocatore tu devi opportunamente che devi cambiare modulo domenica scorsa siamo stati condannati e mi dovete credere da infortuni e nel campionato di eccellenza arriva la terza sconfitta consecutiva per il terra nuova Gela ieri i gelorossi dopo essere stati in vantaggio sono stati ripresi e superati dal Mussomeri il gol vittoria è giunto al 95esimo la dirigenza subito dopo la gara ha esonerato il tecnico Natale Serafino e ha confermato che da domenica prossima in campo scenderà la squadra Juniores una forma di protesta contro la direzione arbitrale accusata di avere condizionato la partita di ieri ricordiamo che il terra nuova Gela dopo la gara inaugurale con la Nissa persa per 1 a 0 aveva esonerato l'allenatore Angelo Vedda è scattato sabato scorso e lo vediamo dalle immagini presso la struttura della Real Gela di Via Recanati il quindicesimo torneo over 40 12 le squadre partecipanti la detentrice agri-service di Giacomo Cirignotta le formazioni della Polizia e dei Carabinieri Corredi Spadaro Real Gela Panificio San Francesco Dominante Pizzeria Ristorante Gelone Cage Parrucchiere Antonio Ferrigno la squadra dei professionisti e Gravina un torneo che vede in campo numerosi appassionati di calcio che con impegno e passione cercheranno di conquistare l'ambito trofeo l'iniziativa porta la firma del presidente della Real Gela Salvatore Spadaro tutto il materiale tecnico divise palloni è stato regalato alle squadre dallo stesso presidente che acquistandoli ha contribuito nei confronti della Lega Italiana per la lotta contro i tumori ci fermiamo abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni che c'è a tutti i tumori che c'è a tutti i tumori che c'è a tutti i tumori Grazie a tutti